Oggi da Avarese si parla delle sfide per il Nord. Sì, oggi siamo a Avarese per questa bella manifestazione intitolata Giù al Nord. Parleremo delle varie sfide, tra cui del federalismo, come opportunità per far ripartire il Paese. Io credo che possa essere modificato il federalismo fatto dalla Lega del PDL, approfittando appunto del governo tecnico e portare quei correttivi indispensabili affinché i comuni siano più autonomi e abbiano più risorse.